Buongiorno 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 il 64% a questo socio, però questo socio partecipa soltanto alle entrate, quando c'è da pagare, paghiamo sempre noi, è agenzia delle entrate, magari facesse l'agenzia delle uscite, invece loro entrano soltanto nella casa degli italiani e ci derubano, possiamo dire. Allora, siccome è arrivata questa questione blonna in Maccheron, ho detto, vabbè, visto che oggi vado ad Altamura, vado a Palla, perché puoi andare in qualsiasi ufficio delle entrate, agenzia delle entrate, e vado a vedere che cos'è, perché noi abbiamo già pagato il nostro 64% di tasse all'anno, perché volete qualcosa in più? Allora, mi hanno detto che all'Altamura c'è la sede dell'agenzia delle entrate, una struttura modernissima, restaurata all'epoca del sindaco Stacca, quindi è stato fatto il collaudo, è stata resa idonea per fare uffici al pubblico, uffici pubblici. Allora, quindi io mo' vado. Nunzio, seguimi, vediamo un po' che cosa mi dirà il responsabile, il direttore. Nunzio, ma perché è chiuso qua? Non potevi dirmi che è chiusa l'agenzia delle entrate all'Altamura? Come? Ah, l'agenzia è proprio chiusa, cioè non in ferie come le maestre a Carnevale che hanno fatto, diciamo, festa lunedì, martedì, si torna giovedì a scuola per il Carnevale. No, questo è proprio... Ah, 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 quindi, ah, perfetto! Allora, amici di Altamura, adesso vi dico un'altra verità, perché magari queste notizie, magari per sentito dire, forse qualche giornale ne avrà parlato, però diciamo, in maniera molto, come dire, analitica, nessuno l'ha mai detto. Magari uno viene qua, dice, ma l'agenzia delle entrate è a chiuso. Come? Come non è? Come? Come non è? E beh, io su Google, via Marecchia, via Marecchia, e qua non ci sta, sta tutta chiusa. Però, io mi sono informato e questa cosa non è che mi convince molto, perché non dimentichiamoci, siamo sempre in Italia e in Italia le cose si accomodano, le cose si, come si può dire, c'è il tornio, no? C'è una tornitura, si fa il cesello, finemente cesellata la notizia e la situazione può cambiare con una variante, con una proroga, cioè l'Italia è, come dire, maestra in queste cose. Allora, che cosa è successo? Questa struttura, come potete vedere dalle immagini, è una struttura che è stata fatta proprio a norma, proprio per ospitare degli uffici pubblici. Tra l'altro sono stati spesi un bel po' di soldi pubblici, perché questa è una struttura comunale, quindi avete pagato voi, Altamurano, i soldi per restaurare, questo era un ex macello, un ex mattatoio, quindi all'epoca del sindaco, Stac, eventualmente il sindaco, anche se non è più signo, però può anche spiegarci, cioè nel caso noi dovessimo sbagliare qualcosa, però io credo che all'epoca è stata fatta questa operazione, questo restauro, questo wish and blonde, ma che no? Secondo i canoni, le norme, come si devono fare? Infatti penso che ci sono stati collaudi, le varie autorizzazioni, alla fine dei lavori hanno collaudato, hanno firmato l'ingegnere, la staticità, tutto a posto. E quindi un po' di tempo fa c'è stata l'inaugurazione, quindi che l'agenzia delle entrate si è trasferita in questi locali, che prima il buon nunzio ha mostrato le immagini di repertorio. E se noi ci rendiamo conto, anche la parte esterna è veramente fatta bene, si vede che è una struttura, come dire, restaurata, ripristinata da pochi anni, è stata verniciata, ci sono le porte, ci sono le uscite di sicurezza, tutta a norma, telecamere, è a norma, altrimenti uno che va a fare il collaudo, non si prende la responsabilità se una struttura non è a norma. Quindi noi partiamo e siamo sicuri che qua è tutta a norma. Poi che cosa è successo? Dici che c'era una perdita d'acqua, probabilmente la struttura non è idonea, la struttura non è stata fatta bene, forse il tetto perde acqua, è umido, non possiamo sapere. Allora non è che si sono preoccupati, io lo so perché ho parlato con dei consiglieri, giustamente per parcondicio non posso nemmeno nominarli, però mi hanno dato tutta la documentazione. E praticamente l'agenzia delle entrate, i vertici, non è che sono andati dal comune e hanno fatto determinate richieste, no, direttamente, hanno chiamato l'ufficio del lavoro, il medico sanitario, quelli all'inizio scrivono, Wichemblon e Maccheron e quindi morale della favola che cosa è successo? È stata dichiarata questa struttura nuova di zecca collaudata secondo i crismi, no, è stata dichiarata inagibile, giustamente sono sasciuti, i dipendenti dell'agenzia delle entrate se ne sono andati. Morale della favola. Il comune poi, tramite il personale attento, ha notato che è arrivata una bolletta dell'acqua di 8, di 14 mila euro, ecchia la misera, ma era l'agenzia delle entrate o erano le termini di Chiangiano, che la gente va a beve l'acqua? Si sono resi conto che questo consumo esagerato di acqua era dovuto a una perdita, praticamente c'era, può succedere, una tubazione che perdeva e quindi giustamente quando c'è una perdita rilevante di acqua per diverso tempo, è chiaro che arrivi a 14 mila euro di acqua e arrivi che le pareti, i tramezzi sono completamente, come dire, imbevute di acqua, cioè una cosa, e quindi uno ha potuto erroneamente pensare, no, è la struttura, bastava una semplice riparazione, lo so, mille euro, duemila euro, ma pure dieci mila euro per sostituire i tubi e tutto avveniva in maniera, diciamo, normale, naturale e si poteva continuare a lavorare. in questo ufficio pubblico che è stato collaudato e quindi ha l'agibilità, giusto per intenderci. Allora io dico, ma scusate, ma è mai possibile una cosa così strana, quasi tragicomica? In effetti, ma che è successo? Qui non so se hanno riparato la tubazione, non lo so, però da gennaio l'agenzia delle entrate si è trasferita a Gioia del Colle. Allora io dico, per tutto il rispetto che io ho per Gioia del Colle, per l'amore di Dio, però Gioia del Colle è un centro che ha, mi sa, 24 mila abitanti, qui ci sono 70 mila e più abitanti, quindi è un centro molto, ma molto importante, molto, ma molto grande, dove in effetti si lavora, cioè i dipendenti qua da gennaio l'agenzia delle entrate ne facevano di lavoro. Praticamente ci sono stati dei problemi, chissà, ora vai a capire le motivazioni che una città grande di 70 mila e più abitanti, come Altamur, per il momento è rimasta senza agenzia delle entrate. Dicono che si dovrebbe trasferire adesso agli uffici dell'ex tribunale, l'agenzia delle entrate vuol far risparmiare al comune un po' di soldini e quindi deve dare, come si chiama, il layout, quando è bello, layout. Praticamente una progettazione di come devono venire gli uffici, la disposizione, l'ingresso, la stanza per il pubblico, tutte queste cazzate qua, quando in effetti non ha fatto risparmiare un bel niente, perché qui è rimasta una struttura che all'epoca di stacca è costata un bel po' di soldi agli altamurani, tutta a norma con l'agibilità e adesso qui è morta per un pallino, per un neo che l'agenzia delle entrate si è inventata, oppure ha creduto opportuno fare una cosa del genere. Però non è possibile una città come Altamur, 70.000 abitanti, adonacimo all'agenzia delle entrate. Cioè per tutti i rispetti che noi abbiamo per Gioia del Collo, però Gioia del Collo, un piccolo centro di 25.000 abitanti, se andate a vedere c'è un'agenzia delle entrate, un palazzo enorme, qui lo dico e qui lo nego, forse perché un po' di anni fa un politico, che poi è diventato ministro, che faceva riferimento alla città di Gioia del Collo, ha voluto creare questa struttura. A noi non ci piove, non ci sono problemi, però non è possibile che una città come Altamur, 70.000 abitanti, cioè non abbia un'agenzia delle entrate. Vabbè, quasi quasi è stato meglio così, sai perché non? Perché questa lettera è qua adesso, io me la trovo la scusa, io sono venuto, l'agenzia delle entrate è chiusa. Quindi ci vediamo prossimamente, quando non si sa, l'agenzia delle entrate porterà questo layout, porterà il progetto agli amministratori comunali di Altamur che lo vaglieranno e dicono, mi hanno detto che nel giro di poco, però diciamo della politica non ci dobbiamo mai fidare, a breve, a giorni, il prima possibile dovrebbero rientrare con un nuovo ufficio all'ex tribunale di Altamur, un nuovo ufficio dell'agenzia delle entrate. Per il momento io vi saluto da questa struttura, perché è chiusa, però vi posso dire che almeno esternamente è stata restaurata, è stata ristrutturata completamente. Per un neo dell'agenzia delle entrate, che c'era una perdita d'acqua, però hanno definito che si trattava di un tum, si poteva risolvere facilmente. Nunzio, che dici, ce ne possiamo andare? Ah, vedi, devo saluto... Nunzio, potete capire che Nunzio è il mio hard disk portatile, io dimentico tutto, però Nunzio si ricorda tutto. E quindi devo salutare Francesco, Martina e Antonio, che sono tre bambini, fratellini tra di loro, fratellini e sovrini, che ci guardano ogni giorno. Quindi guardateci sempre, per oggi è tutto. Amici di Kikrikki, state per buon!